Una serie di malori per i pazienti diabetici costretti a lunghe ore d'attesa per un prelievo a laboratori analisi all'ospedale dell'Annunziata. Il caso che si è verificato lo scorso martedì continua a far discutere e suscitare polemiche con il Tribunale per i diritti del malato che non si accontenta della risposta fornita dal direttore generale della ASLA, Vezzano Sumona L'Aquila, Rinaldo Tordera. Il manager deve venire qui a vedere la situazione e a risolvere concretamente un problema che di fatto sussiste. interviene la responsabile dell'area legale del Tribunale per i diritti del malato Katia Puglielli che ha raccolto alcune segnalazioni di pazienti glicemici che hanno avvertito un malore proprio mentre facevano la fila al laboratorio analisi. Alla fine è stato necessario anche l'intervento dei carabinieri della stazione di Sulmona ma il problema è tutto interno. Tordera aveva spiegato che gli infermieri assegnati a servizio sono cinque, tre sono in malattia e un'altra infermiera, attualmente in maternità, verrà presto rimpiazzata. operazione per la quale sono già in corso le relative procedure. Ma dalla ASLA sono arrivate rassicurazioni sul fatto che ad affiancare gli infermieri rimasti in servizio ci sono anche i medici. Si verifichi sul campo la situazione, onde evitare problemi come quelli accaduti ai pazienti con glicemia, conclude la Puglielli.